Anche San Giovanni a Sanremo 2024. È stato uno dei concorrenti più amati dell'edizione numero 20 di Amici. Grazie al suo stile, al suo modo di fare e ovviamente al suo talento, il cantante ha vinto la categoria Canto di Amici di Maria De Filippi ed è arrivato secondo in classifica, dietro alla sua fidanzata di allora, la ballerina di danza moderna e contemporanea Giulia Stabile. San Giovanni è entrato ad Amici con all'attivo due singoli, non più, uscito a giugno 2020, e Parano, a, e durante l'esperienza nella scuola di Maria De Filippi ha pubblicato i singoli Lady, Tutta la notte e Ipe, che insieme ai brani dell'anno precedente hanno scalato le classifiche e ricevuto numerosi premi e certificazioni. In particolare Lady, certificato triplo disco di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana. Grande successo anche per il brano Malibu, primo in classifica a poche ore dall'uscita sul mercato e brano l'estate 2021, stesso discorso per il disco di debutto, che si è giudicato due dischi di platino. E nel 2022 per San Giovanni arriva l'esordio al festival di Sanremo con il brano Farfalle. Torna all'Ariston nel 2024. Non solo musica, nella scuola di amici il cantante ha trovato l'amore grazie alla ballerina Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione del Talent, ma prima di lei l'artista era fidanzato con Margherita Mirelli. In un'intervista San Giovanni ha raccontato del momento in cui ha realizzato di essere innamorato della compagna di classe. C'è stato un giorno in particolare in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei. No, non di come balla. C'è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un'altra cosa. La storia tra San Giovanni e Giulia Stabile è finita nel giugno del 2023. Dopo una serie di voci, era stato proprio l'influencer Amedeo Venza a confermare la notizia. Giulia e San Giovanni si sono praticamente lasciati. Pare che a fare il primo passo verso la decisione drastica sia stato lui. Zero tradimenti o difficoltà caratteriali, semplicemente non andava più da un po' di tempo. Entrambi, attualmente, sono proiettati sul nuovo lavoro. Poi era arrivata la conferma dai due. Si fa chiamare San Giovanni perché tutti gli hanno sempre detto di non avere la faccia di un santo. Da qui la scelta di questo nome d'arte. All'anagrafe Giovanni Pietro Damien, il cantante è nato il 9 gennaio del 2003 a Vicenza ed è cresciuto con tre fratelli a Grumolo delle Abadesse, paesino in provincia di Vicenza. È alto 180 centimetri e pesa circa 70 kg.